Cari Gitarnauti, ciao! Allora siamo in 30.000, 30.000 è veramente un numero pazzesco, potremmo riempire uno stadio di calcio e magari prima o poi cercheremo anche di farlo. Quindi 30.000 grazie a tutti voi che mi seguite così assiduamente con tutto questo affetto. Senza di voi ovviamente questo non sarebbe stato possibile. Vi confermo che siamo il canale numero uno assolutamente in Italia per quanto riguarda la velocità della crescita. Quindi ci sono canali che attualmente hanno ancora più iscritti di noi riguardo la chitarra, ma noi cresciamo più velocemente, quindi ogni settimana ci sono centinaia di persone che ci seguono nuove e che si appassionano a quello che facciamo. Grazie, 30.000 grazie a tutti voi. Ecco, per festeggiare questo incredibile traguardo abbiamo pensato a un'iniziativa, a un contest, quindi a una piccola competizione in cui dovrete realizzare un video, ok? Un video rispondendo a una lista di domande. Tra poco ti spiegherò meglio riguardo a questa cosa. Ci sono dei premi in palio, quindi questi video verranno poi postati sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, votati da noi stessi, da tutti noi, tramite i like, e quelli che prenderanno più like vinceranno appunto dei premi, ok? Per esempio il primo classificato vincerà il jackpot con tutti i corsi di lezione chitarra.it più la maglietta Ima Gitarnauta, ok? Ma poi ci sono premi anche per il secondo, il terzo, il quarto e il quinto classificato con corsi ed altre cosette interessanti. Ecco, i tempi. Il contest parte da martedì 1 dicembre fino a giovedì 3 dicembre. Poi venerdì 3 dicembre decreteremo i vincitori, ok? Quindi armati di fotocamera e preparati a rispondere a queste domande. Ecco, un ulteriore dettaglio. Alla fine prenderemo tutti i momenti più divertenti che ci avete mandato con i vostri video e faremo un video finale con un montaggio che raccoglierà e testimonierà un pochino tutta questa iniziativa. Quindi poi vi chiederò di condividere questo video che appunto servirà un po' a coronare tutto questo particolare momento. Adesso vi volevo fare velocemente dare le mie risposte alla lista di modo che sia anche un pochino un esempio per voi per sapere come rispondere a queste domande, ok? Quindi vediamo un pochino la lista delle domande. Allora, il tuo nome, Claudio. Dove abiti e di dove sei? Milano. Quanti anni hai? Questa è una domanda facoltativa, io rispondo senza problemi, 40. Da quanto tempo suoni la chitarra? Allora, io suono da 23 anni. Elettrico-acustica? Entrambe. Poi, la prima canzone che hai imparato? Allora, non mi ricordo esattamente, ma Stero di Tuo e Heaven delle Zeppene è stata una delle primissime. Poi, ricordi la prima volta che hai preso in mano una chitarra? Sì, era una chitarra di mia madre, che ho ancora qui, poi magari in un altro video te la mostrerò. È stata sicuramente subito una grande emozione. Hai mai pensato di appenderla al chiodo? Sinceramente no, mai. Perché hai cominciato, ma come tanti, per rimorchiare le ragazze, ovviamente. Suoni altri strumenti? Sì, chitarra, pianoforte, batteria, basso. Il tuo genere musicale preferito? Pop, rock, ma insomma mille altri, poi. Il tuo musicista, chitarista preferito? Qui per semplicità, diciamo, Jimmy Page delle Zeppene. La tua canzone preferita? Direi Strawberry Fields Forever dei Beatles. Un concerto indimenticabile che hai visto? Questo è facoltativo, chiaramente, se hai visto un concerto che ti ha colpito. Io direi Paul McCartney nel 2011 a Milano e Radiohead a Villa Reale di Monza. La chitarra dei tuoi sogni? Ma, una bella Gibson 335 con Bigsby degli anni 60. Un aneddoto divertente riguardo te e la chitarra? Ma, insomma, ce ne sono diversi. Direi, quando mi hanno regalato la prima elettrica a 17 anni, me la sono messa in spalla andando in bicicletta con uno zaino dietro, mi è volata per terra proprio il giorno che me l'hanno regalata. È veramente stato un momento tragico. Poi, fortunatamente, la chitarra ne è uscita più o meno in colume. Fai un Do maggiore. Ah, qui serve la chitarra. Quindi, mi raccomando, nel video tutti muniti di chitarra. Quindi, sentiamo come suona il tuo Do maggiore. Ok? Poi, vediamo dove sono arrivato. Hai mai preso lezioni e studiato musica? Sì, da alcuni insegnanti privati. E ho studiato al CPM di Milano, Centro Professione Musica. Hai mai pensato di distruggerla per colpa di un esercizio che non ti viene? Io no, perché non sono uno di quelli nervosi, ma magari voi avete degli aneddoti anche qui divertenti da raccontarci. Hai mai suonato dal vivo in pubblico? Sì, centinaia di volte. Cosa pensano i tuoi familiari del fatto che suoni? Mi hanno sempre incoraggiato, quindi su questo sono molto fortunato. E anche la mia compagna attuale è una chitarrista, quindi direi che non ci sono problemi in famiglia. Ma anche qui, magari voi invece avete situazioni un pochino più interessanti da raccontare. Suona qualcosa? Suona qualcosa? Che sensazioni e emozioni ti dà a suonare la chitarra? Ma insomma, per me la chitarra è tutto. È una passione, è un lavoro. Quindi le sensazioni coprono davvero tutta la gamma delle sensazioni e delle emozioni possibili. Consigliereste a chi non lo fa di imparare a suonare la chitarra perché? Sì, perché è uno strumento splendido, divertente e tutto sommato accessibile per tutti. Pensi che la chitarra possa essere uno strumento di socializzazione? Assolutamente sì, è uno dei migliori strumenti di socializzazione. E l'abbiamo dimostrato anche al nostro meeting dei Guitarnauti suonando insieme. Questa l'abbiamo già fatta. Saluta tutti i Guitarnauti in ascolto. Cari amici Guitarnauti, ciao. E l'ultima domanda è di I'm a Gitarnauta. I'm a Gitarnauta. Ok, quindi questa era la lista delle 27 domande. Mi raccomando rispondete. Se c'è qualche domanda a cui non siete in grado di rispondere saltatela tranquillamente. Fateci un video, mandatecelo e trovi tutti i dettagli quindi per partecipare al contest qui sotto o qui sopra se stai guardando il video su Facebook. Mi raccomando vi aspetto in tantissimi. Ci vediamo nei prossimi giorni per mettere i like sui vostri video. Ciao, grazie ancora per esserci e per essere qui in 30.000. Buona chitarra e a presto.